Errore su caldaia Bosch, simbolo lampeggiante. Cosa fare se la tua caldaia Bosch ti dà questo simbolo lampeggiante a trattieni? Non preoccuparti, perché non è un codice di errore. Questo simbolo indica semplicemente che la caldaia sta riempiendo il sifone della condensa che ha due funzioni. Quella di bloccare la fuoriuscita di fumi che potrebbero entrare in casa e allo stesso tempo fa defluire l'acqua, lentamente nel tubo di scarico. Qui trovi il sifone con il tubo di condensa. Dopo circa 5 minuti, una volta riempito il sifone, il simbolo lampeggiante scomparirà da solo e la caldaia tornerà in funzione. Metti mi piace ed iscriviti per sostenere il canale.